Dalla prima lettera di San Polo Apostolo ai Corinzi Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo. Così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati, mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti, il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri. Tutti fanno miracoli. Tutti possiedono il dono delle guarigioni. Tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate Signore, voi tutti della terra. Servite Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti. E noi siamo Suoi. Suo popolo. E gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo. Gregge che egli guida. Varcate le sue porte con inni di grazie. I suoi atri con canti di lode. Lodatelo. Benedite il suo nome. Noi siamo suo popolo. gregge che egli guida. Perché buono è il Signore. Il suo amore è per sempre. La sua fedeltà. di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo. gregge che egli guida. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse, non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse, ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo, un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.